Una ragazza è stata investita da un treno regionale questa mattina alla stazione ferroviaria di Fara Sabina, Monte Libretti, in provincia di Rieti. La giovane, secondo quanto si apprende, non è stata ancora identificata, ma avrebbe un'età compresa tra i 25 e i 30 anni. Ed è purtroppo morta sul colpo, sono intervenute immediatamente i sanitari del 118, ma per lei non c'era già più nulla da fare all'arrivo dei soccorsi, era già deceduta.